Tana Fest, trasformare la corte del castello in una festa del teatro. È questa l'atmosfera che si respirerà dal 16 al 21 maggio in un luogo incantato come il Castello di Barletta. 19 spettacoli di prosa italiana, teatro ragazzi, danza e prosa internazionale messi in scena in quattro diversi spazi del castello, la Tana, la Sala Rossa e due stanze nei sotterranei. Altrettante le compagnie straniere ospitate da Romania, Svezia, Gran Bretagna e Belgio, un esperimento frutto della creatività di Giampiero Borgia, fortemente voluto dal comune di Barletta e dal teatro pubblico pugliese con la sponsorizzazione di Pasquale Casillo dell'omonimo gruppo imprenditoriale di Corato. Credere in qualcosa significa poi dimostrare sul campo di essere vincenti. Lo hanno fatto i nostri 13 cavalieri con Fiera Mosca, lo sta facendo Giampiero Borgia con la Tana, un progetto nel quale abbiamo creduto che mette a disposizione una location invidiataci da tutti. Questa programmazione è inserita nel progetto di teatri abitati, che è un progetto di residenza, è un intervento regionale che è stato finanziato con i fondi europei, fondi FESR, e ha consentito alle compagnie qualificate a livello professionale, come il Teatro dei Borgia a Barletta, di collocarsi in spazi teatrali pubblici, quali appunto in questo caso la Tana, il Castello di Barletta, per rendere questo contenitore un contenitore vivo. Dal racconto laboratorio di Caterina Valente con l'antigone di Sofocle messa in scena per i più piccoli, al monologo sulla vita della pittrice messicana Frida Kahlo, passando per l'Occidental Express con la regia di Giampiero Borgia. Unisce tre lingue e varie esperienze attoriali, e qui abbiamo appunto Cristian Di Domenico, attore rappresentativo della nostra compagnia. È un testo di Matei Wisniec, mette insieme la nostra compagnia del Teatro di Borgia con alcuni attori rumeni, che sono però abilissimi nel parlare la nostra lingua, per cui per il pubblico non sarà un problema seguirci. È una storia molto affascinante, molto interessante e molto contemporanea sul tema dell'emigrazione. Fra tutti, uno spettacolo da non perdere nei sotterranei del Castello. The Smile of Your Face della compagnia belga, che è un vero e proprio evento sensoriale. È uno spettacolo che dura 25 minuti, fatto per sei spettatori alla volta, bendati su sedia a rotelle. Nella settimana dedicata al festival avrà inizio anche la rassegnazione in danza, preceduta da una conferenza sul tema dell'anoressia. Ospita quest'anno compagnie attive a livello nazionale e internazionale, dove all'interno è membro un danzatore barlettano. Ospiteremo una compagnia di Lecce, una compagnia di Roma, una compagnia di Milano, una compagnia di Berlino. Durante il festival, infine nell'Arena del Castello, sono attese le scorribande della fattoria degli artisti, con claunerie e incursioni teatrali tra uno spettacolo e l'altro.